Io insomma dico che lei è elegante, anche se ha la cravatta un po' storte, quindi alcune cose sostanzialmente le metteremo a posto, ma sono osservazioni. La cosa importante, ribadisce Tajani, è che la manovra è stata approvata. Partiamo da qui con Matteo Renzi, buongiorno. Sono senza cravatta. Senza cravatta. Non sono bello come Verderami che ha la cravatta, è elegante come vuole Tajani. Già presentato da Matteo Renzi, Francesco Verderami, Corriere della Sera, buongiorno. Conduce lei, senatore? Un vero peccato, però. Allora, manovra approvata, sostanzialmente, con dei distinguo, anche ieri il suo intervento in aula è stato... Lei ha distinto ieri tra Meloni 1 e Meloni 2. Ho fatto una battuta ortofrutticola, perché la Meloni ha detto che quelli di prima erano la Repubblica delle Banane. E sinceramente l'ho trovato una caduta di stile, nel senso che quelli di prima erano Mario Draghi. Cioè, tra l'altro, la Meloni è anche fortunata. Non è che c'era Conte prima o gente in quel modo. Aveva Draghi. Quindi, quando lei dice nel discorso in aula Noi porteremo più Italia in Europa, qualcuno le dovrà pur dire Guarda, Presidente, che prima di te c'era uno che ha salvato l'euro quando tu venivi negli studi della Sette a dire che volevi lo scioglimento concordato della zona euro. Cioè, rimettere in fila le cose significa dire che c'era una Meloni 1 che diceva no all'euro, che quando io parlavo di Nato in Lituania diceva che era, utilizzo virgolettato, una idiozia che voleva affogare i barconi dei migranti. Ma lei pensi davvero che volesse attaccare Draghi, Meloni? No, secondo me gli è scappato. Lei è scappato perché ha bisogno di una narrazione, Meloni. Meloni ha bisogno di dire ai suoi, comprensibilmente, per giustificare le pirouette che ella deve fare, perché è comprensibile che dall'opposizione alla maggioranza tu debba cambiare postura, lei deve dire ora ci siamo noi, siamo forti. Allora io ho detto, guarda, quella di prima non è la Repubblica delle Banane, forse questa è delle Meloni, però c'è un Meloni 1 che diceva no all'euro e Meloni 2 che dice sì all'euro. Quindi io credo che Meloni abbia scelto un tono anche saggio, no? Profilo di non fare errori. E ha ragione Tajani, alla fine la manovra è stata approvata, quindi tutto sommato Tajani ha ragione quando fa quel riferimento alla cravatta per dire vediamo. Però c'è un problema sul 2023, cioè che tipo di governo fanno questi? Fanno i leader conservatori europei e diventano il punto di riferimento dei conservatori europei o oscillano? Perché una volta fanno la flat tax e una volta fanno le multe, quella delle multe sulla base del reddito la trovo una cosa ridicola. Cioè tu hai la flat tax e poi dici il divieto di sosta quanto lo fai? Oggi dipende da che 7,40 hai, cioè vai a complicare... La sua non è un'opposizione durissima, insomma. L'impressione è che su tanti temi appunto ci sia magari un problema di aggiustare la cravatta anche per l'opposizione del terzo polo. Non è così. Non voglio usare il termine stampella perché... Stampella, lei sa che per un appassionato di storia come me la stampella è Enrico Tofi, cioè di apiro la stampella. Io non sono uno che fa da stampella, però il concetto di fondo secondo me è che noi siamo molto seri, cioè noi non siamo... In questa settimana Tortola non lo dice nessuno, ma la stampella l'ha fatta il Movimento 5 Stelle. Mi spiego. C'è stato la pregiudiziale di costituzionalità sul decreto Rave Party. Non propriamente un capolavoro della politica internazionale. Questo tipo di provvedimento è andato in votazione sulla pregiudiziale di costituzionalità, si fa quasi sempre. E l'opposizione di solito, se presenta la pregiudiziale, vota a favore della pregiudiziale e la maggioranza vota contro. Ovvio, no? Lì mi pare che l'abbia presentata al Partito Democratico. Noi, Terzo Polo, con il PD abbiamo votato per la pregiudiziale, cioè per dire non va bene. La maggioranza, giustamente, ha votato contro. I 5 Stelle si sono astenuti. Cioè, le vere stampelle gliele stanno portando i 5 Stelle. Noi cosa facciamo? Noi facciamo un'opposizione molto seria sulle cose su cui non siamo d'accordo. Cioè, questi tolgono la 18-up e io gli faccio ostruzionismo. Questi scelgono di, come posso dire, fare sulla riforma della giustizia, sulla difesa cose serie e io voto a favore. Cioè, Crosetto l'altro giorno in aula è stato bravo. Nordio in commissione è stato bravo. A Crosetto e Nordio noi votiamo a favore. Alla 18-up o alle follie di questo Bignami che ha detto le multe le faremo sulla base del reddito. Io lo dico a quelli che sono a casa. I ricchi pagano di più e i poveri... Ma scusi, 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 ma io ho la flat tax e poi sulle multe... Perché se i ricchi devono pagare di più, che va benissimo, ma allora non metti la flat tax. Per me la legge è uguale per tutti. Questo è il punto che dico io. Scusi, no, però la legge è uguale per tutti vuol dire che sul fisco io che guadagno di più di un operaio devo pagare un'imposta progressiva. Sul codice della strada, se io metto la macchina in divieto di sosta, non è che se la mette l'operaio vale meno. Quella sanzione deve essere uguale per tutti. Se l'ostruzionismo arriva addirittura a mettere a repentaglio la finanziaria con l'esercizio provvisorio. Gli unici che in questa fase stanno mettendo a repentaglio l'esercizio provvisorio sono quelli della maggioranza. Ci raccontavano ieri i nostri colleghi della Camera, Maratin e gli altri, che sono in alto mare sulla legge, ci stanno litigando su tutto. Un po' è anche normale. Quando c'hai un governo di coalizione, qualche litigio lo fai. Però oggi siamo al 15 dicembre e non si vota sulla legge di bilancio. Anche ai tempi del governo Draghi siamo arrivati... Guardi, quelli peggiori di tutti... La verità è che fino alla nostra legislatura, quella in cui eravamo al governo, c'era il bicameralismo. Poi ho perso il referendum per abolirlo, ma lo hanno abolito di fatto perché hanno smesso di fare la doppia lettura della legge di bilancio. Comunque Pomicino l'altro giorno qui spiegava che l'esercizio provvisorio potrebbe non essere una catastrofe. Paolo Celino Pomicino ha su questo una tesi che è raffinata, come molte delle tesi di Pomicino. È un'operazione di risparmio. Lui ha una tesi raffinata che dice... Non si sa se lo capiscono i mercati, però. No, infatti lui dice che nel momento in cui dividi per dodicesimi hai un oggettivo risparmio. Però è il ragionamento su quale io non sono d'accordo, cioè sono d'accordo nel punto tecnico, ma sono più d'accordo con Verderami che dice se vai all'esercizio provvisorio fai una figura clamorosamente negativa con i mercati. Quindi io suggerirei al governo di fare gli accordi, alla maggioranza di sbrigarsi, di portare questa legge in aula. Però la verità è che è brutto che un parlamentare non possa manco vedere questa legge. Però è successo con Conte, con Draghi un po' meno, ma anche Draghi non è stato velocissimo nella legge di bilancio e succede con la Meloni. Poi c'è un punto Verderami che quando la portava Draghi, anche se la portava last minute, non era bellissimo, ma era un po' più tranquillo di quando la porta a Conte o di quando la porta a Meloni, ecco. Senta, a proposito di figure, è uscita ora la notizia, parliamo naturalmente di quello che accade in Europa con l'inchiesta sul Qatar, che davanti agli inquirenti belgi Francesco Giorgi ha confessato di aver fatto parte di un'organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar allo scopo di interferire e condizionare gli affari europei. Il suo ruolo era quello di gestire i contanti. E lo scrive anche un giornale belga questa mattina in base ai documenti che sono stati visionati. L'impressione è che questa storia si allarghi e insomma non è una bella figura. Noi siamo tutti garantisti qui a questo tavolo, poi se però, fermo restando che il garantismo è una cosa seria, se ti beccano con il borsone, con un milione di dollari in contanti che stai uscendo da una casa o addirittura c'hai il milione di dollari o di euro, non so cosa sono in casa. Il garantismo rimane, per carità di Dio, però tu c'è qualcosa a nascondere, cioè non ci prendiamo in giro, ci possiamo nascondere. C'è anche una confessione. Vediamo. Allora, il processo è bene che, come diciamo sempre... Ma che c'entra il Qatar, diciamo così, con l'Europa? Cioè è possibile che nessuno si sia sorpreso quando avvenivano certi interventi anche in aula? Io non mi stupirei se questa vicenda fosse più complessa di come ce la raccontano. Beh, intanto da quello che si legge, dalle presunte confessioni che la stampa belga, non soltanto la stampa belga, sta tirando fuori, pare che non sia soltanto un paese, ma sia più di un paese. Sì. E questo ovviamente non è bellissimo. Cioè non è bello nemmeno se è soltanto un paese, ma se più paesi utilizzano contanti per avere una rete di lobby, chiamiamola così, che però in questo caso non è lobby, ma è un'influenza illegale e illecita, perché va a prendere i parlamentari e i loro collaboratori, io ho l'impressione che la pulizia debba essere radicale. Cioè non credo che ci si possa fermare a due o tre persone. Si faccia chiarezza sui processi decisionali. Dopodiché la vicenda del Qatar, da quello che pare di capire, sia una vicenda legata al dibattito sui mondiali. La vicenda del Marocco, cioè sulle condizioni di lavoro sui mondiali. La vicenda del Marocco, da quello che si legge, non pare collegata a un fatto specifico, ma a una generica, diciamo così, rete di influenza, è evidente che per chi come noi è stato accusato da questi signori di aver fatto di tutto in passato, di aver distrutto la sinistra sulla base dei valori, vedere oggi che questi sono i valori che portano avanti, qualche dubbio lo credo. Lei ha mai subito pressioni in questo senso, visto che c'è tutta la parte che deve fare le conferenze fuori? No, 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 fermi lì. Dividiamo i due aspetti in modo secco. Io ho fatto il capo del governo e quindi in termini di, diciamo, ruoli, influenze, un pochino le vedo queste cose, ma sono influenze che tu giochi alla luce del sole, ad esempio. Le faccio un esempio sul Qatar. Noi vengono gli amici del Qatar in Italia, la nostra difesa vuole vendere delle navi, in quel caso erano navi, c'era il compianto Peppino Bono che fece un intervento straordinario nella cena ufficiale con i Qatarini e quindi c'è un'attività del tutto legittima, legale, doverosa da parte del sistema Italia per andare, nel caso di specie, a vendere dei prodotti italiani, in questo caso prodotti di aziende pubbliche, partecipate dal pubblico. Totalmente diverso è il ragionamento di chi sta negli advisory board, che fa le conferenze, questo non ha alcun riferimento con i processi decisionali, anche perché, parliamoci chiaro, i processi decisionali si svolgono o nei paesi di origine e larga parte di questi non sono democrazie, quindi non hanno un problema che devo convincerti perché in Parlamento tu voti in un modo, non c'è democrazia e quindi il Parlamento nella sostanza non conta. Oppure nel luogo europeo, non nei singoli stati. Nel luogo europeo io non lo so realmente com'è che possano giustificare quello che è successo. sono curioso di capire che cosa farà il Parlamento europeo. C'è un atteggiamento di doppia morale e purtroppo spiace dirlo soprattutto a sinistra. Però mi scusi, senatore, è vero, lei le sue conferenze le fattura, come ha più volte detto, ma non trova strano questo rapporto che c'è tra la politica europea e quel mondo arabo dove di rinascimento c'è, sì, forse l'evocazione degli efferati delitti che si facevano a quei tempi all'ombra delle signorie. Guardi, Verderami, se vuole fare un dibattito sul rinascimento per le mie celebri ormai frasi lo faccio volentieri, anche perché molti di quelli che parlano di quella roba lì non sanno nemmeno cosa fosse il rinascimento. Talvolta lo confondono con la rinascente. Il rinascimento è stato un periodo fantastico e fiorente, ma un periodo pieno di sangue, pieno di crimini. Cioè quelli che dicono il rinascimento era un periodo con il violino dove si discuteva di Platone e Aristotele nei giardini della Firenze del Cinquecento non hanno la minima idea di cosa fosse rinascimento. Tant'è che uno dei miei prossimi libri lo voglio fare proprio su questo. Rispetto alle questioni, non paragoniamo, rimanendo agli ingorghi ortofrutticoli, le pere con le mele, nel senso che se lei prende dei soldi per fare un'attività illecita, incontante, addirittura per cambiare la sua posizione, che non volevano sovrapporre le cose. Quello è una roba che lo dicono per lei, ma siccome qualcuno l'ha fatto e ne risponderà, chi mette sullo stesso piano un atteggiamento vergognoso e squallido di chi prende dei soldi per cambiare la propria opinione e per andare nelle sedi decisionali a cambiare la propria opinione, quello lì deve rispondere di fronte alla magistratura. Io sono garantista, te mi devi spiegare come mai c'hai un milione e mezzo di dollari in contanti. Il mio ruolo invece è una cosa totalmente diversa, nel senso che io faccio, sto in tanti advisory board a livello internazionale, dall'America al Medio Oriente, dalla qualcosa, voglio dire, molto in Europa. Ma queste sono opinioni del tutto irrispettabili. A me se mi dicono guarda che chi fa il parlamentare non può fare altro, non può fare gli speech, non può fare gli advisory board, non può fare l'architetto, non può fare... A me va bene. A me basta che ci siano delle regole uguali per tutti. Però una cosa è girare per il mondo perché la gente vuole ascoltarti, bontà loro, mia moglie mi dice sempre ma ti pagano per parlare, io ti pagherei per stare zitto. Questo diciamo sta nella dinamica familiare. Altro è immaginare che questo possa portare a un'influenza illecita perché veramente altrimenti stiamo... No, no, qui siamo... No, no, qui siamo... Poi se vogliamo parlare di quel mondo lì... Della signora Tortora non certo in salotti televisivi dove si parla di rivoluzione. Però se vogliamo parlare di quel mondo lì, io credo che quel mondo lì sia uno dei mondi più interessanti dei prossimi anni nel senso che piaccia o non piaccia ora non voglio fare un'analisi geopolitica la voglio fare brevissima Russia-Ucraina sposta ulteriormente ad est la mappa geografica. In questo spostamento ad est i paesi arabi, i paesi del Golfo diventano un soggetto decisivo per due motivi. Il primo perché gli americani a torto a ragione li hanno un po' abbandonati quando non hanno avuto più bisogno di petrolio. cioè con l'autosufficienza energetica realizzata da Bush e Obama con lo shale gas hanno lasciato andare quella parte lì. E in quella parte lì è nata una cosa molto interessante di rapporti tra Israele e i paesi arabi che io trovo affascinante. Il cosiddetto della pace di Abramo. Aspetti, finisco. Dall'altro lato c'è la Cina che ha iniziato a intervenire in modo pesante. Cioè Xi Jinping ha partecipato ospite d'onore alla conferenza del Golfo. e andare Xi Jinping lì dopo che Xi Jinping... Tutti democratici di razza questo. No, ma guardi se vogliamo parlare di esportare la democrazia io ci sto a fare una discussione No, io volevo parlare dell'autogrill. Però attenzione stanno facendo pubblicità occulta al mio libro Il mostro che sta andando sia una pubblicità occulta. Però per chiudere il ragionamento il mondo di oggi è un mondo nel quale la democrazia è chiaramente a rischio. Negli anni all'inizio degli anni 2000 la Bush diceva esportiamo la democrazia. Oggi la democrazia non la esporti più. Quando ci hai provato in Egitto non ha funzionato. Quando ci hai provato in Iraq non ha funzionato. E quindi c'hai un cavolo di problema in quell'area lì. Ma una cosa è dire non riesco a esportare la democrazia in Qatar. Un'altra cosa è pensare che la democrazia europea sia virgolette foraggiabile a fiori di contanti. Ecco questo è il ragionamento. Questo assolutamente sì. Dopodiché se uno ci capisce di politica estera e va a giro per il mondo in modo legittimo perché sta negli advisory board vorrei che non fosse messo sullo stesso piano di chi in modo illecito e illegale con Mancini si prende le stecche. Mancini autogrill macchina a destra a sinistra sappiamo tutto professoressa esposta a parte la consegna dei babbi dei dolcetti. Allora io la trovo una cosa fantastica perché un anno fa cosa vi siete detti? Guardi nessuno di voi ricorda una cosa che io dico sempre anche in modo un po' petulante e me ne scuso e cioè che quando Report ebbe questo grande scoop scoop al quale io non credo e per il quale ho presentato in queste ore una denuncia di 39 pagine al comando dei carabinieri del senato perché lo trasmetta al pubblico ministero che segue questa vicenda 39 pagine in cui spiego perché sta storia non sta in piedi neanche con gli stecchetti chiusa paretti se lei non crede alla professoressa al fatto che la professoressa fosse una professoressa che si è trovata e poi sappiamo ci sono le telecamere che lo dimostreranno se le telecamere sono state clamorosamente cancellate ci sono i talubati delle celle telefoniche va bene però se il padre della professoressa poverino stava male doveva costantemente andare in bagno un'ora e venti però lei mancine l'ha incontrato scusi sì sì arrivo subito un'ora e venti io fossi stato la professoressa con il padre che sta male avrei parcheggiato accanto al bagno non a 100 metri dal bagno per fargli fare la camminata con la difficoltà quindi questa storia non sta in piedi detto questo siccome io credo nella giustizia ho presentato 39 pagine e le dico poi arrivo su Mancini su questo tema che mediaticamente non mi aiuta lo dico guardando in camera io non insisterei se non fossi assolutamente certo che nelle prossime settimane nei prossimi mesi su sta roba qualcuno verrà e dovrà dire caspita anche stavolta aveva ragione Renzi aveva ragione Renzi quando diceva alcune cose sui paesi arabi perché oggi si dimostra che non eravamo noi quelli che facevano le cosacce e l'abbiamo visto aveva ragione Renzi quando si parlava di Conte e aveva ragione Renzi quando si parlava di Conte però non faccio di Merina arrivo su Mancini la padrona di casa le ha chiesto che cosa vi siete letti lo diciamo a chi ci ascolta è dalle sette e mezzo Verderami che vuole chiedermi e cosa ha fatto con Mancini allora le dicevo quando arriva la notizia di Mancini Report entra nel mio ufficio io metto quattro telecamere e rispondo a tutte le domande di Report cosa abbiamo discusso con Mancini ce la siamo persa ce la può dire in maniera più a chi vuole ascoltare questo dibattito il mio canale YouTube è disponibile perché è registrato in diretta a voi dico è pubblicità dappertutto c'è il canale YouTube che sta crescendo 58 mila follower è Mancini che voleva parlare a lei o lei che voleva parlare a Mancini come parlava quattro volte con il presidente del Consiglio Conte come parlava con Di Maio come parlava con Salvini come parlava con lui di che cosa si può dire ma non c'è niente di male nel senso che quando un capo dell'intelligence ha ciò autorizzato dai suoi vertici così egli sostiene ripeto ha ciò autorizzato dai suoi vertici vuole parlare con un parlamentare in questo caso un ex presidente del Consiglio è evidente che si parla di tutto si parla delle dinamiche dell'attualità lì c'era una situazione aperta sulla attualità legata al governo si parla di vicende personali ricordiamo che periodo era del governo era il periodo nel quale stava assaltando il governo Conte e c'era preoccupazione in questo? da parte di chi? di Mancini ma guardi non credo che Mancini si sia mai preoccupato di niente uno che ha fatto il lavoro che ha fatto il risultato ma lo chieda lui preoccupazioni altrui guardi io questa cosa quello che aveva in testa Mancini chiedetelo a lui quello che è certo secondo lei secondo la sua percezione uno chiacchiera e dice io sono preoccupato un incontro di routine totalmente normale e privo di alcun valore questa è la mia opinione e l'ho detto in tutte le sedi in tutte le sanse ho detto in tutte le sedi in tutte le sanse vi siete quadrati dopo di che siccome era un incontro per me di routine le ripeto il concetto di routine non era il primo incontro certo e non c'era niente di male credo che lì dentro sia accaduto qualcosa mi colpisce che il presidente Conte dica in un'intervista che sì ho ricevuto il materiale dei servizi ma l'ho ritenuto non importante per me poi ero alla fine del governo non volevo creare l'impressione che stessi concentrandomi su quello ora quando lui dice l'ho ricevuto alla fine del governo signori cari report va in onda maggio la fine del governo Conte è a gennaio Conte ha confessato che ha ricevuto prima di quello che è uscito al report vi rendete conto che in sta storia cioè quello che dico ed è davvero la pubblicità ma noi Andreottianamente possiamo immaginare che sia venuto a chiederle un aiutino per il governo che era traballante e qui Verderami che è Andreottiano dentro a pensare male fa peccato però no questo lo diceva Andreotti io mi fermo alla parte più moralista io credo che chi pensa male faccia sempre peccato e però se ci si avvicina al vero questo lo diceva Andreotti non lo diceva né Renzi e né Verderami tra i due penso che lo pensi più Verderami di Renzi non mi interessa sapere cosa pensassero loro a lei no ma la percezione che ha avuto il concetto è che io ho avuto su questa vicenda un massacro un'onda di fango apprezzate il riferimento mattutino e voglio dire a chi ci segue che su questa roba io mi sono comportato in modo non trasparente di più la sorpresa di più di quel colloquio nulla perché era normale che mai ci vede su un colloquio ma io se vengo chiamata a colloquio da una persona ho poi la percezione se è il quarto colloquio ho poi la percezione se diciamo così si vuole no ma cosa volete c'è tutto chiaro in questa vicenda questa vicenda l'unica cosa che non è chiaro sta professoressa era lì o no perché se la professoressa è lì ed è a otto metri da Mancini e da quattro agenti della scorta che non si accorgono che lei sta a otto metri a registrare il problema c'erano Mancini e l'agente della scorta che non si accorgono a otto metri che c'è una persona io e questo è il mio punto fondamentale sul quale vivo questo periodo con una serenità totale sto dimostrando la vicenda open è una vicenda di cui non si parla più perché perché si capisce che lo scandalo del finanziamento illecito non è un rendiconto presunto fatto su un modulo sbagliato sono i soldi che vengono portati e portati via come abbiamo visto in queste ore al Parlamento Europeo due i PM che mi hanno attaccato uno è stato trasferito si è trasferito da Firenze a Reggio Calabria non è più procuratore capo e fa il sostituto procuratore dei minori ed ha una vicenda aperta per molestie sessuali quell'altro sulla vicenda senese il dottor Nastasi deve spiegare come hanno fatto a fare quelle indagini clamorose su Davide Rossi quell'altro ha preso un foglio lo ha mandato al Copasir senza avere l'autorizzazione anzi la Cassazione gli ha detto di no io sto rispondendo colpo su colpo non voglio dire la cavaliere nero di Gici Proietti e le dico Verderami che quelli che in questo periodo mi hanno costruito attorno una montagna di fango giorno dopo giorno sono chiamati a rispondere del fango che hanno prodotto ma lei anche incassa i dividendi del libro il mostro che va sempre bene però possiamo fare una cosa possiamo fare un libro a quattro mani nel quale spiegare che nel corso di quel colloquio Renzi e l'esponente dei servizi Mancini parlarono delle difficoltà del governo e della richiesta magari da parte di Mancini di dare un aiutino a Conte e vediamo se Renzi ci smentisce e ci guarela io aspetto il vostro libro vi dico solo due cose anche un articolo può essere a quattro mani un articolo a quattro mani Verderami Tortore comunque vale il prezzo del biglietto a prescindere ma nel caso di specie due considerazioni rapidissime la prima le mie opinioni sulla vicenda Conte e lei lo sa Verderami lo sa anche la Tortora non è che avevo bisogno di dirle a Mancini nel senso che erano pubbliche in quel momento lì io le stavo dicendo Urbi e Torbi sì sì attenzione due ore prima ero in questo studio qui lì perché ero dalla Merlino dalla Merlino due ore prima di andare da Mancini avevo detto dalla Merlino guardate che noi non accetteremo di mettere una pezza sul governo Conte e Ter ora io non so se Mancini fosse interessato preoccupato scusi devo fare una domanda a Verderami secondo te Mancini chi lo manda a questo incontro beh siccome il senatore Renzi ci dice che è stato mandato no io dico che Mancini era stato autorizzato vabbè dai scusi scusi ma non la domanda a Verderami ecco quindi se è stato autorizzato quando il senatore Renzi dice è stato autorizzato mi è tornata in mente una frase che mi venne detta dall'allora da un esponente del Partito Democratico e Borghi Enrico Borghi che allora come oggi fa parte del Copasir e che con una battuta disse se continua così il responsabile dei servizi allora era vecchione più che fare responsabile dei servizi può fare il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento e questa battuta mi accende una lampadina guardi Enrico Borghi è una delle persone più intelligenti che io conosco la apprezzo molto la lampadina è chiara cioè c'era una rete diciamo così per agevolare per agevolare la permanenza di quel governo per evitare che si aprisse e allora su questo punto magari anche con persone che un tempo invece Renzi aveva proposto con favore non pensavo a lui pensavo a una vecchia lista dei ministri facciamo un passo indietro e quindi Renzi serviva a questo allora tutto bene l'analisi di Verderami tutto bene l'analisi di Verderami ha una sua logica una sua coerenza io non mi esprimo su questo voglio soltanto dire a Verderami a chi ci ascolta con un pazzo come me che si è visto in quest'ultimo periodo arrestare i genitori poi assolti indagare tutti gli amici e tutti i finanziatori poi indagini clamorosamente smentite dalla Cassazione vedere costruire un caso autogrill che per due anni ha riempito un anno e mezzo le pagine dei giornali vedere costruito una campagna di diffamazione sulle fake news legate attenzione alla vicenda energetica Trivelle Russia qualcosa mi dice per uno come me in questa fase secondo lei se uno mi viene e mi dice oh devi fare il bravo con Conte detto che non è successo ma se uno mi fosse venuto a dire io l'avrei detto anche l'avrei detto l'avrei scritto l'avrei mandato a stendere cioè il concetto vero è che anche chi mi odia non sono pochissimi non dovete giocarvi la schedina insieme lei e Mancini se si trattava di politica significa che lei parlava di politica io parlo di politica nelle sedi in cui devo parlare di politica se qualcuno se lei lei ha fatto un'analisi o abile nel dire c'era qualcuno che voleva arrivare da Renzi e dargli un messaggio a me possono arrivare negli autogrill sì ho capito però o magari quel nome aspetta ci sta dicendo che era arrivato lì qualcuno che gli doveva dare un messaggio e che lui non ha cambiato posizione ma questo allora lo dico per chi ci ascolta il punto fondamentale di sta storia è che vedrà Misha ha le sue tesi la spy story è molto semplice io ho una tesi semplice lei ha fatto il nome di tutto e di più anche nel mostro perché questo appunto quale? questa reticenza questa reticenza nel dire forse c'è qualcuno che voleva farmi arrivare quel messaggio non lo penso perché penso una cosa molto più grave io penso che qualcuno abbia violato il segreto di Stato lei sa che il segreto di Stato è un reato che viene punito fino a 24 anni di carcere in questa vicenda ce l'ha un'idea di quel qualcuno? secondo me non le chiedo il nome ce l'ha un'idea di quel qualcuno? io penso che su questa vicenda siccome però io il segreto di Stato so che cos'è perché ho fatto il premier e ho molto rispetto per le donne e gli uomini dell'intelligence io non mi metterò mai ad alimentare una polemica sulla base di congetture in questa vicenda c'è qualcuno che ha violato il segreto di Stato e il segreto di Stato lo paghi con 24 anni di carcere allora siccome io sono una persona seria non ho violato neanche il segreto istruttorio il nome di sta professoressa l'avvocato me l'aveva detto 15 giorni fa ma il segreto di Stato di cui lei parla noi sappiamo tutti che la delega ai servizi ce l'aveva allora il presidente del Consiglio Conte ma lei vuole la mattina del 15 dicembre alle 8 e mezzo che io faccia dichiarazioni scottanti pensando che lei fa delle ci conosciamo ho capito ma lei sta aggiungendo io posso parlare ore senza dire niente come diceva la mia opinione è che sulla vicenda open sulla vicenda autogrill sulla vicenda trivelle sulla vicenda dei miei genitori io sia stato oggetto di una clamorosa campagna concentrica mentre questi si prendono i soldi con i borsoni mentre quello vende le armi ai colombiani mentre quell'altro porta le mascherine cinesi e i ventilatori cinesi malfunzionanti mentre sul covid girano soldi a go go e non c'è uno che faccia una commissione d'inchiesta perché nemmeno la Meloni vuole fare la commissione d'inchiesta sul covid perché sono l'unico che chiede la commissione d'inchiesta sul covid mentre io ero diventato il mostro agli occhi di tutti intorno a me continuano a fare le schifezze che vediamo allora siccome sono molto tranquillo rilassato sto molto sereno me lo autodico io passo passo a quelli che mi hanno fatto del male replico non facendo congetture facendo ricorsi ci sono 39 pagine vediamo se ha ragione chi dice come report che c'era una professoressa che il padre stava male che aveva un problema credo di stoma perché Ciletti ha trovato la professoressa lei ha chiamato domenica in diretta la professoressa che è è come una partita di poker questa qui cioè lei si tira fuori la carta alla volta diciamo che come dire come si dice il tempo è galantuomo ma il tempo è un signore distratto diceva il grande il grande poeta vogliamo aggiungere che solo il riformista oggi parla della fine della folla inchiesta Carrai no in realtà il trafiletto no no non è vero ieri devo ammettere che persino il Corriere della Sera purtroppo mi spiace ammetterlo davanti al Verderami ma il Corriere della Sera ieri ha fatto un trafiletto ovviamente ha fatto un trafiletto anche il messaggero e mi pare il QN quindi però stiamo parlando di una cosa semplice va bene va bene ti indagano e c'hai le paginate ti archiviano e devi avere la lente il microscopio per andare a vedere dove lo metti però intanto qualcuno ne parla quindi Carrai è un altro di quelli questa vicenda qui è clamorosa gli sono entrati alle due di notte la so la conosco la conosciamo la sappiamo la dobbiamo salutare lo salutiamo non mi fanno parlare lo lasciamo andare via quale notte quale notizia abbiamo avuto stamattina sulla vicenda Autogrill la notizia è che qualcuno ha cercato disperatamente di mettere una pezza al governo che stava per cascare e ha mandato Mancini e ha mandato Mancini questa è la tesi di Verderami che io non confermo cosa che era impossibile da fare perché da quanto mi risulta il senatore Renzi aveva ormai puntato verso il governo Conte e aveva avvisato alcuni amici dicendo mettete lo champagne in ghiacciaia diciamo che questa ultima parte è una parte che rivela un segreto politico che Verderami non doveva dire e la confermo questa ultima parte tutto il resto ho dei dubbi nel senso che il mio incontro con Mancini era un incontro di routine vi è stato costruito sopra qualcosa è evidente quello che viene fuori oggi è che io non faccio frasi o grido ai complotti dico ah ho firmato un esposto cioè ci metto la faccia 39 pagine non è che è un esposto dicendo potete indagare 39 pagine due se lo lasci dire su questa vicenda qualcuno ha mentito e qualcuno ha violato il segreto di Stato ahie qualcuno ha mentito qualcuno ha violato il segreto di Stato se uno viola il segreto di Stato è quello che si è sbagliato con le date allora cioè quello che ha detto l'ho visto come direbbe qualcuno questo lo dice lei io ho un'opinione mia qualcuno ha violato il segreto di Stato violare il segreto di Stato porta a 24 anni di carcere allora siccome io sono una persona onesta pulita e tutte le volte mi hanno attaccato per gli incontri all'estero gli incontri noto grill i miei genitori la mia fondazione sta avvenendo fuori che noi siamo quelli seri e puliti e quelli intorno a noi a cominciare dalla vicenda covid di cui non parla più nessuno hanno molto da nascondere il mio appello alla presidente Meloni è Meloni 1 o Meloni 2 scegli tu a parte non cancellare 18 app che è la misura per 18 anni ma è un'altra cosa Meloni 1 o Meloni 2 cortesemente la fate sta commissione d'inchiesta sul covid? va bene perché qui c'è qualcosa che qualcuno vuole nascondere il derby D'Alema Renzi continua è bellissimo è sotto altre forme perché poi c'è pure Conte D'Alema gioca un altro campionato io non vado a vendere le armi in Colombia ecco lo vedi io non ho garantito ventilatori cinesi malfunzionanti via 3 io voglio la commissione d'inchiesta io voglio la commissione d'inchiesta stia tranquillo che D'Alema la commissione d'inchiesta non la vuole sono pronto a firmaglielo qui e soprattutto io non sono quella sinistra con la doppia morale perché quelli che sono i protagonisti dello scandalo su sono quelli che sono venuti via dal PD dicendo che io non rispettavo i valori della sinistra caro Verderami cara Tortura quali sono i valori della sinistra di questi signori? quelli del Borsone in contanti sono valori anche quelli ma non sono i miei lei ce l'ha un'idea su chi ha violato il segreto di Stato? ne ho un paio due? vabbè un paio qualcosa lascia due allora un anno fa ero interrogato dal mio IPM e tutti voi dicevate che ero finito perché c'erano le carte il premio è il suo referente ai servizi 2022 abbiamo dimostrato con il mostro che ci sono delle carte contro di noi nel 2023 risponderemo alla domanda ai Verderami che secondo me sono domande falce e tendencioche è veramente un comunista Verderami è un comunista e quindi sì no no assolutamente no io non ho detto questo non intendo davvero io non credo il presidente del Consiglio Conte chiamatelo anzi no scusi l'ex presidente mi piace dire ex presidente del Consiglio chiamatelo e chiedetegli semplicemente perché ha detto che ha ricevuto quella carta quando era a Palazzo Chigi e poi ha detto no mi sono sbagliato guarda che è una cosa diversa questa va bene ci siamo capiti ci siamo capiti state attenti anche a qualche vostro collega no sulla minaccia no attenti a qualche vostro collega perché anche i giornalisti non devono violare il segreto di Stato devono stare attenti anche loro io ho capito i giornalisti non possono violare il segreto di Stato i giornalisti hanno un segreto professionale importante che per me va difeso perché se hai uno scoop non è che puoi dire chi è la fonte se no non sei serio quindi io a meno che questo non sia un ho capito però anche i giornalisti sono chiamati a rispettare il segreto di Stato persino loro lo scopriremo solo vivendo adesso la pubblicità perché se no Cairo non vuole grazie a Matteo Renzi ci vediamo dopo lasciamo via la Renzi ci vediamo dopo cambiamo Verderami rimane noi giornalisti rimaniamo mi mandano via solo noi mandano via solo noi voi politici la facevo restare un'ora e mezzo grazie a tutti